Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video su Unbox Italia un video che in molti aspettavate da circa 30 giorni perchè è finito il contest sulle famose cuffie Ludos e oggi annunceremo quali sono i vincitori per chi di voi non sa di cosa sto parlando per i 5000 iscritti era stato fatto questo video speciale il primo giveaway del canale è stato possibile grazie a questa azienda si chiama Ludos che ha fatto questa cuffia di nome Clamor ne avevamo tre a disposizione per l'unboxing così avete visto tutte e tre le colorazioni e adesso in base al piccolo regolamento che mi ero inventato ho selezionato tra i commenti di Instagram tra i commenti di Youtube in Mi Piace e in Company ho selezionato purtroppo solo tre perchè tre erano i vincitori massimi che cosa vincono vincono uno a testa un codice per poter comprare su Amazon sul link che vi metto in descrizione per poter comprare su Amazon grazie al codice gratuitamente totalmente gratuitamente queste cuffie perciò il regolamento era questo iscriversi lasciare un Mi Piace commentare questo video iscriversi anche al canale Instagram e taggare un amico sotto il post di Instagram allora io ho avuto 55 commenti su Youtube mentre su Instagram questa è la mia pagina a proposito ricordati di seguirmi su Instagram erano soltanto 11 commenti perciò c'è già stata una bella selezione e tra questi ho selezionato tre di voi credetemi che ecco il primo vincitore questo è il secondo e questo è il terzo perciò Marco Serra Davide Gesia De Gilli e Bedem K7 che ha una bella golf ecco questi sono i tre vincitori che ho selezionato completamente a caso credetemi avrei voluto regalarle a tutte ma l'azienda che è già stata gentilissima mi ha concesso tre codici perciò ragazzi subito volate al link in descrizione i codici voi li ricevete nella chat privata di Instagram ok e scadenza ottobre mi raccomando questa era l'ultima nota da ricordarvi ricordatevi anche di iscrivervi per chi di voi non l'avesse ancora fatto e ci vediamo molto presto sempre qui su Unbox Italia ciao ciao